A cinque anni di distanza dai fatti e dopo tre processi in due gradi di giudizio, si chiude definitivamente la vicenda nata nell'aprile del 2018 a San Maurizio d'Opaglio. Una mattina i carabinieri si avvicinarono a una SEAT in sosta in zona industriale, con a bordo due giovani. Secondo i militari con lui che era al volante, intimato a fermarsi, partì a tutta velocità per evitare un controllo. La pattuglia, dopo essersi messa all'inseguimento. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.